Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale YouTube Sigfrido Millequadri. In questo video vi presenterò una delle più amate e celebri opere di Renoir. Andiamo subito a scoprire il quadro. Ballo al Moulin de la Galette è uno dei dipinti chiave dell'impressionismo, che fissa su tela un momento di svago dei parigini. Ma questa istantanea che ci raggiunge fresca e vibrante è il frutto di un lungo lavoro preparatorio, l'esito di una sfida che Renoir affrontò anche con l'aiuto di diversi amici. Entriamo nel dettaglio dell'opera. Il quadro è stato realizzato da Pierre-Auguste Renoir nel 1876 ed il titolo originale è Balle au Moulin de la Galette. È un olio su tela che misura 131 cm x 175 cm ed è attualmente conservato al Musée d'Orsay di Parigi. Grazie agli iscritti che ci ha lasciato l'amico di Renoir, Georges Rivière, possiamo ricostruire la gestazione di questo quadro, che per il pittore era il primo nel quale affrontava una scena affollata ed in movimento. L'intenzione di Renoir era quella di dipingere un momento di serenità e di svago dei parigini. Il pittore decise di ambientare il dipinto in un locale molto in voga, posto sulla collina di Montmartre, il Moulin de la Galette, ottenuto dalla ristrutturazione di un'area dove si trovavano due mulini a vento, gli unici rimasti dei 14 preesistenti. Il nome del locale in particolare si riferisce alle gallette di segale che i proprietari, che erano dei mugnai, originariamente offrivano ai clienti accompagnate dal latte. Nel 1834 la struttura divenne bar-ristorante e anche sala da ballo nei giorni festivi. Il latte venne sostituito dal vino moscato. In questa fotografia, che risale al 1885, vediamo i due mulini posti alla sommità della collina di Montmartre. Un problema logistico che dovette affrontare Renoir era coniugare la dimensione del quadro, che come abbiamo detto misurava un metro e settantacinque di base, con l'esigenza di dipingere en plein air. Il quadro aveva le dimensioni di un'opera accademica, tipicamente realizzata in studio. Approfittando del fatto di aver affittato proprio a Montmartre, non lontano dal locale, un grande studio, in prima battuta il pittore, aiutato anche da amici, decise di trasportare avanti ed indietro la tela. Dopo alcune sedute en plein air, Renoir si rassegnò a completare l'opera in studio, ma continuò a lungo a frequentare il locale, per cercare di entrare totalmente in sintonia con il clima che vi si respirava. Renoir quindi, con questo dipinto, ci offre un affresco della società e dei costumi dell'epoca. Il dipinto non va letto come semplice istantanea, come un singolo frammento, ma come una complessa ricostruzione, in un'unica immagine, di molteplici spunti offerti dalla frequentazione del locale. Il quadro non mira a trasmetterci solo stimoli visivi. Renoir cercò di realizzare un dipinto che oggi potremmo definire immersivo. Il pittore ci vuole trasmettere l'esperienza vissuta, una domenica pomeriggio di festa, tra il brusio delle persone, le note dell'orchestrina, il movimento della danza, il calore del sole, i riverberi della luce, la brezza del vento. Proviamo ad entrare nel quadro e da vivere in prima persona questa esperienza totalizzante. È una domenica pomeriggio di una primavera a metà degli anni 70 del XIX secolo e il Moulin de la Galette, uno dei locali più in voga a Montmartre, è pieno di gente che balla, conversa, sorseggia un bicchiere di vino. Tanto è meditata l'idea della composizione, tanto è rapida ed immediata la pennellata. Renoir non progetta il dipinto attraverso studi dettagliati, ma per così dire familiarizza, frequentando il locale con l'atmosfera del luogo, con i suoi avventori e comportamenti, per poi trasferire queste molteplici impressioni sulla grande tela. Il dipinto è quindi frutto di un lungo periodo di interiorizzazione e sedimentazione, che si traduce poi in una esecuzione rapida, innovativa, fresca, che ci restituisce immediatamente l'atmosfera che si respira nel locale. Non vediamo traccia di disegno nel quadro. Renoir agisce direttamente con il pennello accostando i colori puri sulla tela. In primo piano vediamo alcuni personaggi che stanno conversando seduti a tavoli o sulle panchine. Le due diagonali del quadro si incontrano dove si trovano due giovani donne, due sorelle nella realtà, amiche del pittore. Altri amici che si offrirono come modelli sono seduti al tavolino. Un uomo di spalle sta conversando amabilmente con le due donne. Le posture sono naturali. Quella in piedi tiene una mano sulla spalla della sorella seduta. L'uomo, l'unico senza cappello nel quadro, ci dà le spalle e sulla sua schiena e sui capelli la luce filtra dal fogliame generando delle macchie colorate. Il vestito a righe della ragazza, seduta, colpito da raggi del sole, risulta cangiante, iridescente. Renoir cura i dettagli in modo che tutto risulti vitale, vibrante. Un bouquet di fiori, la collana col medaglione, gli orecchini, un fiore in testa. Tutto è stato solo accennato, dipinto con pennellate rapide, ma sono proprio questi dettagli ad impreziosire la tela e a renderla così ricca e vitale. Sul tavolino osserviamo un brano di natura morta, con bottiglie e bicchieri. Un giovane con un cappello sembra osservare rapito le due sorelle. Accanto a lui un uomo con la pipa in bocca ed il cilindro appare rilassato e più assorto. Prima di entrare al centro della pista notiamo ancora, nella parte inferiore a sinistra del quadro, una donna seduta su una panchina che parla con una bambina bionda. La donna è parzialmente tagliata dal quadro. Anche questo aspetto è innovativo, non appartiene all'arte accademica e permette di lasciare alla nostra immaginazione il proseguimento della scena in tutte le direzioni. Noi cogliamo l'opera come un brano di vita vera, non come una rappresentazione distaccata e celebrativa di un evento storico. Dietro ai personaggi seduti attorno al tavolino in primo piano, Renoir inserisce un momento curioso. Un uomo col cappello si appoggia ad un albero e sembra bisbigliare qualcosa all'orecchio di una donna. Sotto il braccio dell'uomo fa capolino il volto di un bambino o bambina che ci guarda. La pista è occupata da diverse coppie che stanno ballando. Ne distinguiamo almeno quattro. Dietro di loro si perde una folla indistinta. Non vediamo direttamente l'orchestrina che suona e accompagna le danze, ma la possiamo immaginare e sentire nell'aria. Renoir ci regala anche un piccolo momento di tensione di una coppia. Lei è seduta e volta alle spalle ad un uomo molto elegante che cerca di richiamarla. Forse hanno discusso. La luce del sole rende vibrante la tela, si insinua tra le fronde degli alberi e raggiunge a macchie gli abiti dei parigini e lo stesso pavimento. Le ombre sono vive e colorate, parte attiva della dinamica della luce. Secondo lo stesso Renoir e gli impressionisti, le ombre portano sempre con sé un colore. Nella parte superiore del quadro notiamo anche i numerosi lampadari a gas. Questo ci fa pensare che il locale sarà aperto anche di sera e che le danze proseguiranno a lungo. Il Moulin de la Galette divenne un punto di riferimento per i parigini e numerosi pittori, oltre a Renoir lo dipinsero. Vi presento ora in una sequenza alcune opere realizzate da celebri maestri. Questo è un dipinto realizzato da Vincent van Gogh nel 1886 e ci mostra i due mulini e l'ingresso al Moulin de la Galette. Nel 1889 Toulouse-Lutré ci mostra l'interno del locale. In secondo piano osserviamo la pista da ballo. Nel 1900 un giovanissimo Picasso dipinge l'interno del locale illuminato dalle lampade. Nel 1912 Utrigliot ci mostra il Moulin de la Galette trasformato con il nuovo portone ad arco ed il secondo mulino nascosto da una nuova struttura. A chiusura del video torniamo a concentrarci sull'opera di Renoir. Il dipinto presentato alla terza esposizione impressionista del 1877 venne accolto in maniera contrastante. Siamo ancora nella prima fase della pittura impressionista e non tutto il pubblico e la critica erano pronti a recepire le innovazioni che porta con sé questo quadro e in senso più ampio l'impressionismo. Renoir rispetto ad esempio a Monet più interessato alla pittura di paesaggio dimostra con questo quadro di avere grande sensibilità per la rappresentazione della figura umana. Nel dipinto sentiamo in modo tangibile quella gioia di vivere che rappresenterà un elemento fondamentale e costante in tutta la lunga attività di questo grande maestro. Renoir ci ha trasportato in un momento gioioso nella Parigi di fine ottocento. Se avete gradito il video mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Fatemi sapere cosa pensate di questo quadro nei commenti. Alla prossima!